nooo che quale e c'ha la schiena più grossa di non so chi e io non lo sapevo però la schiena era ok si vado a due ore però mia dillo 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 no non ci vuole ma è scongioro da pittare è giocato fuori aspetta aspetta mi chiuso a prendere aspetta da davide quando possiamo giocare quando posso quando posso quando posso quando quando sto scappando dalla sei dalla sei sto scappando dalla sei quando me c'è moto scappa sto scappando dalla sei sto scappando quello detto è bello una coglia non c'ho quello stile che hai tu oltre che mandare anche a boschetto eh mi chiede c'è il pesce aspetta ce l'hai questa skin questa ti ricordi no io la volevo così viola non ce l'ho gli stili no io devo aspettare ma fatti fatti da ah come si dire x cornuto z cornuto x sì sì ma non andavano gli schieri questi sono così questi sono così venga non andò male scusimi dopo che mi faccio la sub dopo che mi faccio la sub che ti stancasti questo te lo ricordi questo skin era il gatto mi pare questo qua tu ce l'hai forse questa puoi mettere come gatto ora che ci penso non ce l'avevi? ah non ce l'avevi questa qui? no ma senti che boia amore il mio cane bella questa skin guarda stagione 8 macce mio oppure metto sogno ma non si può fare la sub non si può togliere la sub no no perchè la devo togliere io e non si può togliere perchè praticamente già l'ho pagata ecco si figlio ma me la fanno schifo oh non mi faccio ogni volta cambia skin mi fa salvataggio da tre ore ah lo sai perché gioco con seba perché seba non c'era stato capito perché l'altro giorno seba c'era ieri si ma non aveva giocato mi sa erano altri non c'era ieri seba aveva giocato seba ma era condor aveva giocato seba io me lo ricordo e che non voglio giocare con nuocci ora finisce dai ora finisce e finito io professore praticamente stavo facendo una cosa e gli ho detto ai miei compagni guardate io e il professore abbiamo trovato la chiave al culo e si è ammazzato alle risate i miei compagni tutto tempo guardate che bello e gattino come fa tipo con l'abbraccio no lo voglio fare in gioco ho dei cucchietti ma fai una cosa ma mettiti anche tu questa schiena del gatto fa così almeno facciamo due schiena del gatto no no ce l'hai tipo lo zainetto aspetta questa anche questa schiena che hai tu fa il balletto suo mi stai rombrando gli stili beh dai come moro non lo so no aspetta scrivi due scrivi di nuovo no 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 ci scrivo davide da teore che aspettiamo un cazzotto nella scheda madre peter teca peter c'è chi va davide a teore che aspettiamo non no questo se devo vedere ste cose grazie sei il no be sembra se non fa io stacco aspetta, c'era la Toschina ieri il tuo negozio non da cattarci quelle... ah c'è pure nora, no? aspetta, 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 non devo andare, perché sennò mi preoccupi nemmeno, ma se tu preciso no no, non so, no, non so ahahahah, Gabriele, vabbè Gabriele, c'è la Toschina che cazzo di... è più gentile però scatenate 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 ma cosa c'è di riuscire di intornare la roba aspetta e moci vediamo dov'è quello del ballo della chitarra perchè ogni che io ce l'avevo però non è lo stesso dove è il ballo della chitarra prendendo che metto questa poi metto questo come cazzo si chiamava il ballo della chitarra eccolo però non è uguale sto facendo ecco eccolo perfetto apposto mi sono unito davide ciao gabri è da tre ore che aspettiamo e lo so c'erano altre persone Orazio ci sei? era ciao Ludo come va? ahhh eh il team a completo c'è io mi sono messo il gatto ormai adesso zero costruzione vabbè lo stesso lo stesso 99 100 ci vuole poco razzi vabbè poco 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 dai comunque io ho spiegato tutti i passaggi come fare le ricariche solo solo lo so me l'hai detto cao o vai sul mercato o vai a tabacchino che li fanno pure lì vabbè meglio a tabacchino forse la cosa più meglio io l'ho fatto a Ludo perché Ludo c'è non ha giocato mai qua con Davide e poi io non mi amma mi senti come per chi è su giurissima cara mia mamma che domani fai sta cosa ma me l'ho detto un sacco di volte sta frase ma non della te fatti ridare sopplica la la vincirianta appunti te lo ricordi fai qualche cosa fai suvi fatto letto la vedi roba chissaccio combattina colazione faccio un bel caffè la mattina ma che fai quando te lo sveghi che fai tu Orazio da mini che fai no ho fatti fare il balletto ma non fai niente di utile a casa non fai niente 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 ma manco io io mi portavo il computer non facevo niente ragione domani ora a parte di Orazio anche se anche se se l'è sempre fatta regalare è stato sempre sabato e tu manco una volta ma anche una sabba rialata prima cosa e poi ora ci dice che domani si fa la sabba tu non te la farai mai perché ci c'è la fare ad assupa chiara di amor and quindi tu non giocherai mai qua maledetto dragone ragione di amurand di amurand l'uva l'uva su pagliara mi sono trovato all'icca microfoni da male non di niri in tipo della piccola lo faccio cosa si però non mi seguire aspetto un secondo un altro non sono incazzate che devo fare una cosa colluto in e qua andiamo dai che vuoi fare qualche balletto dov'è mi scappa mi scappa mi scappa che volete fare assicurato assicurato scandare tutto questo poi c'era se siamo detti tutto e tempo se mi fioci da diretti mi fotti mi fotti mi fotti si chiama gabriele seba il bello che nella live di paderno ogni persona che si fa la sabb dire che lei scrive non mi dava niente e ci vedono tutto tempo colo lo abbiamo visto l'abbiamo visto ora è un buon modo è un buon modo per fare si fare sabb cioè ci cammino ci diverso a padronza a padronza ci cammino a padronza a parte che aveva un malo vestito scollato aspetta che era direttamente si scriverevano ve lo posso dire perché bannate una cosa davide comunque quelle luci non ha solo una luce ne ha tante quella luce che ha lui della playstation ne ha tante perché io l'ho vista nel negozio no allora ascoltami a me quella luce ha un bussantino che radice anche la è il suono lo so lo so gabriele ma mi piace così non la cambio voglio leggere così ah non so perché se si ascolta la musica si può cambiare in automatico a chi è luce blu tut no ecco la spina scusami davide ma tu non deve ordinare la playstation 5 no il suo computer che fa che fare la playstation 5 se accattava un video nuovo non mi sembra che ci siano tante esclusive no playstation 5 cioè i giochi che ci sono la playstation 5 vabbè io ci sto giocando però c'è anche in the ring si vede meglio a 4k vabbè 4k su mbc bono magari un pc dopo a 4k vabbè io ce l'ho però preassemblato me l'ha costruito mio fratello su e press su e preassemblato non può essere caduto ufficio frati e diamo a tutti i componenti mi ha comprato ma non vuole essere ma l'avete assemblato voi no l'assemblato lui mio fratello lui se ne intende e allora non si dice non si dice che è preassemblato vabbè compri pezzi e lo assembla automatico lui vabbè vabbè niente basta ci rinunce vabbè potevi dire gabrile che il tuo computer è stato assemblato da uno fratello infatti sì ha preso metto dopo pezzo e io l'ha fatto l'ha fatto vabbè lo potevi vedere la scheda video che marca era la scheda video non lo so c'è poi vedi come la scheda video ti faccio la chiamata e ti faccio la condivisione schermi lo vedi tu ma non c'è niente di chi per cui mia purtroppo non sono come orazio c'è il culo piatto io come cucci ma non è la figurina non c'è niente di veri che vuole c'è il dragone che mi chiede di mettermi a pecorina ma non glielo dire di fare di sociali tu devi essere un vero maschio non glielo devi dire mi dissocio mi dissocio la roma è adatto da voi ma perché non vai in un posto di poche balli con le boys che balla la lap dance che ti fa i soldi ma chi io no tu la come il dragone come cazzo si chiama si mette nel pallo e balla il suo chiaro è il suo chiaro no cioccolato kinder che posso buttare le galli a tagliate la città che balla io davide stai stanno da superiore scordati da sopra attendo da ricorda di e chi te ha d'aria il camion non sto ballando ho bruciato tutto era la possibilità davide era uguale a te di vita ammazzare tutti io vado a affrontare quando mi diciamo cosa che potevano scappare ma spero la verità capire con mia rica come curare brava luto comunque oggi suo nonna è uscito fuori ma non lo sto facendo il bordello oggi è domenica no niente oggi a stamattina non è stato uscito ma cazzo è un fuggoncino che cazzo è successo ma che è stato mi hanno lanciato ma che cazzo ma quattro ora vai io con gabriele a redraw vai una pochissima tempo e mi compri un picco da gaming poi prende un bc buono facciamo lo scoppiare sto fuggoncino ora ora guarda faccio l'albero e brucia tutto no ma io sono ancora qua non mi preoccupare e già ora mi sono pensati i biglietti mi sono chiamato si ma davide non ci può andare se non lo pagano ora io lo dico io che conosco a tutti io ma non li vuole ad esci di soldi c'è da fare la sabba davide che c'è di scusa amica mi sento da te la luce da me ci vuoi a gradi si ma conosco quelli dell'eris che conoscono quelli dell'etana comics acqua non usciti le di lì di lì che si chiama quelli sono proprietà dietro no è vicino lo stato a sto posto oh i biglietti cdh ha condotti confusi che misteri che non hai detto io chi sta confondendo mi senti mio mi senti mio mi senti mia bomba viola chissà la ma vinci si mi senti ho tre fenditura ah massimo c'è una fenditura qua prendetelo è importante ma fendi fendi ma caccia e la cassa e non l'avete vista vabbè marabuio capi caccia e la cassa e marabuio bella mitragliata blu e abituio ok fici magari arriva la cassa e i biglietti caccia e banal no 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 ma dove sono loro ma non canzone ah qua siede non vivo conti che non vi vedeva co la tecnica facciamo due partite a sto punto abbiamo aspettato assai david amato che in scelta in scelta davanti certo logo logo tutti i giorni io vedo il continuo di rendering lo sta continuando ragazzi quali sono spari oggi sono portato non lasciare stare io io così siamo in alto no io l'ho fatto ho fatto io così siamo più coperti ma tu ammazzi tutti a ci spari cinghiale c'è gente c'è gente c'è chi non lo fa bastati che sopra io lo volevo dare a voi che non vi so prendere con cecchino c'è spiegato solo a stare in terra con i cani che fanno schieno con l'occhio poi quando si parla ora gabrile tutti urici anche di detto la cosa vado a farà sabato canale di davide chi si va a tutti a tutti lo dico a tutte le stelle di vigni martellone fai mi dico da qui noi perché sono già un vero e ora stiamo zombie poi facciamo la nostra carenze di affetto orazio vai vai forse vuolta fortuna davide non avevi carenze no a un iso dai ne mani dolcecchino minghia volo un dero minghia io hai ho carenze raffettati ora com'ora quando mando un uomo non voglio in questo abbraccio insi buppo schia l'abbraccio dov'è chi è nel gioco mica ti sto abbracciando nella vita reale non suono buppo mi faccio nelle fermite se almeno sono sincero ah ogni sia bella passione ti sparano da adesso ti sparano mi raccuna tanto mi sparano mi sparano mi ha detto lo sai usare il cecchino Luto? non è giusto stanno questo come si Luto c'è il cecchino lo vuoi? no i gabineti abbiamo tanta carenze di affetto guarda io anche io e Luto guarda vado pigiatemi sono qui e πore si non devono ammazzare gabrile ma dov'è non ammazzare no oh con noi vabbè non ti avanza con noi sto a black dance stia a parla dai dai Cazzo, oh no! Eeeh! Che è vero, Samu? Eeeh, un euro, chi? E' un po' di tutti! Scendiamo, scendiamo, la set! Scendiamo la Davide! Oh, ma un'altra su! Sessi di merda! Aiuto! Via, via, via! Via! Ma che cazzo è? Abilitare! Via, via, via! Via, via, via! Non mi pare! Cazzo! Già, ora l'ammazzo con la macchina! Mi sto incazzando! Affungalo, amore! Mi vedete il tuo zabbim! Via, tu, tu, tu! Spostatevi, che scoppia! Non ammazzai! Ma che giù è Davide? Miau, miau! Aspetta, le buttarivo! L'ho da mica, mi sa! Mi sa perché le buttarivo! L'ho da mica! Sì, l'ho da mica! L'ho da mica! Ehi, dai! Cazzo! Ehi, ti riusciano, l'ho da! Sono le bende, aspetta! Ninja, che cazzo è? Porca pizzo! Dai, che direi, mi muro da un'altra patta! Gabriele, pensa a impararci, chi stia a rinore di marmi! Ninja! Ah, prima è in marzzi! Che fai? Fai, dai, adesso, domani! Vediamo, annunciamo il sedere, vediamo! Ah, che cazzo! Vai, va! Inchia era vinta, ragazzi, l'avevamo vinta! Davvero? Vabbè, dai, mettiamo a preparare! A meno, facciamo fare quattro risati, chi sto ci vuole! Merco, pissing è la... 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 La skinna è chiaro che è molto bella con i capelli arancioni... Con i capelli arancioni... Ma lei, magari tu su hai il passi battaglia? No, Emilia, il faro il passi battaglia! Chi sto soppare tutto costi? Sarà che hai avuto... Ma vedi che inizia ora il passi battaglia, al periodo delle telecomiche, se inizia... Il tre giugno... Ciao, Simone! So, dimmi da lui un metallaro di assisti! Ciao, Davide, su lista che ho visto una foto di uno che era vestito da personaggi di Genshin Impact, era vestito da Itto. Mmm, wow! Invece la femmina era vestita da... Invece da Genshin Impact, però... Mi ricordo che era il passi battaglia di Genshin Impact... Ehm... Andiamo a Johnson, andiamo a Johnson! Johnson Johnson! Se te la mette Johnson! Dalla canzone di Amorant, ho scoperto che... Che gli piace John Cena dalla canzone di Amorant... MING! John Cena! Ma perché John Cena, magari, cantando, ti è diventato? No, fa film! Come ha detto la canzone di Amorant, non ho capito? Che ha detto? Perché c'è una canzone dove Amorant dice tipo John Cena! Ah, la canzone di Amorant! Vabbè, non è considerabile, manco canzoni! Cosa capisci? Ma già c'è il cristiano di mia, ma è possibile? Sì, voglio! Cosa capisci? Cosa capisci? Cosa capisci? Cosa capisci? Sì, c'è la caramella! vai lo da coppia piccola e mai ragazzi qua c'è un altro paura da oggi mi vicino a un suo capitolo di naruto ma ancora più terminal una ruta ma stai verano po signori peter milano andavete il maggior ciccidoni ma come ne sono magari mi stanno mi sono diventati capelli bianchi diventati dopo oltre istint se non mi spara anche google tristinto lui dovrebbe sistemare la modalità simbilità secondo me è come quando io stavo restando ora ci busco le bombe molto attivo il visto l'ho ammazzato scoppiamo la mostra scoppiamo istruzione direttamente mettero mettero tiene orazio che mi rilascia il dono e che ti serve capriera aspetta come un fatto gente e perché ti sei abituato di nuovo giocare quindi sai fino come quello di speciale vediamo ancora se mi ricordo come si fa meno che poi scappi andiamo in safe raga subito smette che faccio scopi andiamo in qualche ragazza capitolo mi aspetta di gabrile non c'è non sei piccoli di luca esodi non si rimane simone bravo da pex legend c'è qualcuno a cui piace la pex legends no a me non mi piace tutte le persone la prima persona non mi piace si muore allora a pex a pex legend ci gioca giorgia giorgia lo manda da pex sì ma a me mi piace la cosa forte ma il solo lotte mi piace vabbè gta ci giochi si giochi ma quando sono con gli amici certe volte perché vabbè gta 1 mi sono divertito è bello vtp dire che cazzo è successo la luce mi è staccata ecco ecco ciao ah no era la tv si stava renditizzando india mi sembrava era la tv a 4k che c'è ludo parla ludo non farà cucina mi fare scandale che successo ludo che c'è vengo io vengo io vengo io vengo io mi stai preoccupando mi stavo urlando ora stai urlando vieni 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 hai ragione aaa lo spaccai non ti preoccupo io non mi faccio i pesi cazzo c'è un altro a quanti sparati ma sono un polini in mia merda aaa ti ho salvato ludo sono il tuo salvatore non ti chiamo da Gabrielecommerce no però non c'è perché Gosh entrego sempre salvatore perchè quello la del gabbanino Come quel monello di Salvatore Ma col gabbarino La sua mamma Ti ha l'uso ma mi diceva Scoppiare Ti hai illuto fatti lo scindore Meno male che c'ero io Fabio Marano Amica si sta mettendo Ma non devi capirvi Fabio Marano Perché? E che sacco Fabio Posso fare le pulci nella testa? Vuole essere I pollici da testa dice Gabriele Fabio Fabio Ok Come fa là? Dice Fabio Gabriele Lai tu un dò cuore i pollici Certo quando non ti la Quando non ci l'avevo qualcuno in culo Qua non c'è vuole Probito Ah ma comunque sto scherzando Che non ti diremmo Voglio la c'è un fuggone Che faceva una malafine Sti O Mcdonald Voglio la c'è un fuggone Prendito Ci penso io con la macchinetta Dei caffetti Che imparava E che te Andiamo a solo tutti i bot Che Неchendo Non ci staraventura Certo Non c'è un fuggone Non c'è un fuggone Ma guarda E' stato Dove E' stato Non c'è un fuggone Guarda Non c'è un fuggone Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando scoppiano tutti i bastardi faccio la strage di macchine ma vaffanculo sono qui dove c'è la casa dei giochi ma vabbè raffanculo l'ultimo sono qui dai salvami per favore ora ci ti lavaste c'è fabbio carice continuare io mi sono fatto la doccia prima di giocare io mi lavo ogni tanto ogni tanto vabbè io sono molto pulito cos'è anche la mobbitente quello da sacchiotto ragazzi andiamo in safe ragazzi andiamo in safe magari sparano magari sparano luto scappiamo vieni hai la fenditura fenditi andiamo andiamo che sparano nella fenditi tu mi volo tutti numero uno occhio cacciavo caramato e non da avvicinare che ti spara come lui ma chi lì in safe scusa io sto volando scusa me la tocchi la medusa quel cazzo si io c'ho ancora la vecchia foto quello del ballo della medusa quando ci siamo fatti la foto quanti foto hai quando ero biondo era quando ero biondo un galannario non te lo ricordi quello dell'occhio che ci siamo fatti la foto tutte e due no vabbè poi quello che c'era il quadro che ci facciamo un quadro della medusa che hai tu davide 37 beh si si sono più grandi di tua mamma addirittura eh mi tommo quando ero biondo quando ero biondo ma è single no lo so io lo so io no ma ammazzaro ma ammazzaro ci penso io davide dai ci buttano e bombe e buona magari che la seconda potevi chiedere oh gli spegniamo di nuovo ma ma perché mi carica ha morto ho preso la fenditura rivederci e grazie ma io l'ho ammazzati tutti bravo amica si numero uno Gabriele se io stai giocando bene mamma spostati che sta pulendo tutte cose sta pulendo mia mamma ma saluta mamma saluta mamma saluta mamma a chi cazzo è che avanti su vindi cristiana oh ma abbiamo fatto una o due vittorie una sola con giorgia 108 avete giocato con giorgia 90 sì però si è staccata la luce non ha potuto giocare più con nessuno come si staccava si staccava live tutta luce si staccava si staccava la luce sono rimasta buia ma dovresti conoscere davide questa giorgia 90 si gioca c'è con lui con lei volevo dire però è basta per me è basta di altezza è ok specchio comunque l'ho vista l'ho vista in un paio di live non è che cioè se capita che ci facciamo un paio di partite sì ma non è che ci devo provare no ma già fidanzato pure lei non ti preoccupare ah quando ho capito giorgia a 90 dice fatti eh sì lo so te la metti a no mi distorcio per a no vabbè già io questo l'avevo capito Gesù Cristiano eh 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 finito con la cioci ti io scappo vieni a che successo ti ho spaventare il sistema esercizio di campo chiudo alla tecnica la tecnica di chi scappa la tec l'età io la mia tecnica di scappare lì Uuuuuh Uuuuuh Che bello Audi su Bastati Bastati Oh ma che spai Ora ciò vuoi il gatto spy A destra a manga Spara bene Vai 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 Cecchina di bravo Ah mi stai picchiato una volta oh Ce lo possiamo fare E che su ci pare che hanno visti Ah andiamoci Minga andiamo da nudo va va Eeeh finio nudo Ah ci lo sboccherò Ma va sta di buccata Dai vedeee Vedeeeelo Vedeeeelo E' un fanculo Ha detto lui e' Davide Vai Davide non muoremo non muoremo Poi c'è una fenditura Comprimi porto due Comprimi Eeeh avviva Siiii Stavo urlando Eeeeeeeh Cittadini Siamo io Ludovica Gabriele Orazio Vai Riconfermiamo Siamo tutti Cittadini Ha fatto Staccare una carina Stati profaia Stati profaia Stati profaia Stati profa Ora dobbiamo fare un'altra partita bella pulita Che poi c'è un video che fa Tommaso te ne accura che non inghiadano in chitarra che l'avevo detto Tommaso Sì Beh questo si fa fatta una chitarra scarsa bella Io Che cosa Che cosa Che Che cosa Che cosa Che cosa c'è una caramella a quali fatti erano tutti fotti a cantapilla ballo di rutto balletto vengamo sembra johnson raga 8 8 jones johnson e johnson anche il chanel numero 5 chanel numero 5 si tratta nascita abbiamo affrontato fabio dice ora c'è il piatti abbassa cagamino non lo divarano fotti sì ma io ti sparai da quando fabi e si spara qualche 400 mila euro prendendo a culo ho bella bambina da posso dire un caramare una parola la posso dare una caramella no eccolo la volta posso un caramare una parola per di bella bambina sono io sono un maniaco pulito io vorrei fare un video musicale con davide orazio ci sarebbe bene video musicale che cosa vuoi cantare noi intendiamo tutti insieme ho fatto anche teatro fatto che allora sarà che ne sci fuori facciamo con il video però mi vergogno se ci sono fatta una ragazza è il nome di soli di affronti delle femmine non è più non mi ma vai che cerca che c'è gara un battaglio ma se lo facciamo a mare no come gara da stare in nera come cani vero coppia scoppiamo a tazzamita magari a mia mamma preferita cookie style meno tutti tutti sta elimino direttamente simon solo cucina pomba due di tutti i tipi mi chiamati c'è ho cavato non ho fatto che poi l'ho boffato facciamo un bambino da qualche parte c'è una cura l'ho minuto salvato la vita ludo abbiamo visto come si muoveva che su cara un problema e poi era velocità io davide succede una mala cosa di rp successo che succede quando racconto niente c'era c'era velocità stavano paranno con i suoi amici di rp stavano paranno pure gli rp con una filmina biglietti fa velocity bella ma chi ci fai qui tutta tutta sola arriva questi ma velocità dammi una pistola che devo sparare regoli ci arriva velocità ci dice se vuoi ti posso dare la pistola ora ora di clip e ti metto sul pittorio instagram che aveva tutti di san katao ha dovuto chiamare subito quelli dei fondi rd rp ma perché il pina clip perché gli sta visto la sparacqua anzi ci fa pubblicità si ma se ti ho proprio in a clip cioè in a clip poi non lo sa come andare a finire barbio vedessi chi era forte chi lo dava come si muoveva posso dato un amico chiara propria mi chiama quando io non mi sono mai sentato a piccare questa era la massa di bar a davide gli piace batman io non ti fanno danno e non ha voluti di stiglio ragazzi riconfermiamo la vittoria reale proprio romano che è felice quando facciamo vittoria reale maia gli sparavano in decolla per lui facciamolo per lui tipo la prevedo me la vendola ora sono rimane fatto lo screenshot ovvio che c'è la fotografia ora poi mettiamo di instagram ora io la metto incomincia poi attaccare a gabriele appena mi dà chi non solo si parte abbiamo gabrie il potere da gare pure io stesso l'amore raggi tagli tutti no ma è problema che una cosa ti devo dire ma mano quello è tuo amico c'è nato un cavallo c'è nato un cavallo veramente no a lui è una persona sono chiari quanto riguarda no c'è le foto su instagram che fa invitazione a tutti vabbè un cavallo che c'è dalla pancia è piccola seguitemi ci sono spari andiamo via non è che eravate poi che sparavate all'alba forse no no io sono acqua qua sono quasi david tessi di merda ce n'è un altro la mette città dove l'imiti più e spacchiano spara bene sto spaccare di merda bravo bravo ma così ti voglio a tutti gli aggressivi veramente era davide quello dovevo dire sta frase ma io 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 ho già fatto senza costruzione casca e casca sotto non ho fatto mancare ma almeno si vince perché qualcuno si sta le persone si spaventano abitare ruotter ah vale potrebbe non ho fornito ma vorate mille un poch' di frutta va cavallo ha voglia un poch' di frutta eh qua qua bella ricorda è un bici da catanese io mi pare che ce l'ho salvato quel video quella che fa mossa segreta dei tanto segreto mi ricorda qualcosa benissimo ragazzi dove si è rimanga una persona che è che è ludovica io sono qua all'appello aspettiamo a ludovica un attimo mettisci la nota dove venga la nota e dobbiamo mettere sono a scuola quando faceva ma non li sento mai simone ripeto vedo li vedo stampati quando scudo il men che mi sono stato bruciato dalla scuola e poi nella tua scuola è stato promosso c'è perché sono stato bruciato perché ho detto va a fangola la professoressa brava ha fatto bene è giusto perché mi ha detto l'ora come stesso se fai tre cose da bocciare studiare per spesso ma lei lei è un po costo paghiara forse a voi direttamente amare ti sospendevano per sempre e capace che non lo conoscevo ancora con la frase e che immagini l'insegnante chi diciamo che potete resta chiara l'insegnante mi sa cosa lo sa molto bene ora io anche in realtà di matematica hai studiato sì ho studiato il ballo del cannolo qua è questo guardi il ballo del cannolo questo qua è dov'è questo ragazzo ragazzi scegliamo qua sotto ragazzi guarda david come stendo col ballo cosa è vero no ma dove sei finita arrivo io c'è a 600 con qua c'era gente di mare a canale ci sono due in tele che vengono stanno ah ok e che devo fare ti salvo giusto mi chiamo di mandato la medicina non mi sono confuso mi è uscito tutto il fumo dalla bocca poi con gente per questo con modo allora per lo stesso e che dare le spagge ce l'abbiamo la scelta ce l'abbiamo le vostre schede raga non avevano ammazzato in chiamano ciò potevi chiaro a scheda d'amore troppo lontano le ricommeriche a scapparca di commerica a scapparca dobbiamo andare in sei ora andiamo a fermo fermo un attimo che stanno fai dando nati fallo ammazzare quindi sono veri in bomba a tamburo and era morisci che non mai bomba tamburo caroncine tipo tipo la cosa la scena di un film vi chiede vi chiede notici spuglia ora state non qua però non qua non qua e aspetta una manuccia dell'appolo ma mi vero no non c'è il gatto mio voglio salutare a davide metti il microfono ho fissato con me la metto a un espaglio si ora c'è il gatto era molto giusto un detto e spuglio anche l'altro anche l'altro che stai sparando contro quattro mi ha gioco so mi sa che è morto ora mi fa amore no play toy che gioca si chiamava e sbagliamo cosa va va bene ragazzi vado a cenare ci vediamo stasera ciao a beh stasera ma perché non vedi di tocco stasera le da è stata bella dai io sto staccato mi stella buonanotte io cavalleggina